Sembrano delle fontane zampillanti le perdite idriche lungo la via Aldomoro. Nei giorni di erogazione la strada principale di Contrada Isabella si trasforma in un fiume. Per la pendenza della discesa scorre per metri e metri il flusso d'acqua erogata che si disperde nesorabilmente ai bordi della strada. Si può dire che è da mesi che le varie perdite idriche sono infatti diverse inondano la carreggiata. È una situazione non nuova per chi percorre tutti i giorni la via Aldomoro in macchina a piedi o su veicoli a due ruote essendo oltretutto la via Aldomoro di collegamento al vicino istituto Calogero Amato Vetrano che tra i due indirizzi alberghiero ed agrario conta un numero consistente di studenti parte dei quali quotidianamente raggiunge la scuola col ciclomotore senza contare i residenti che approfittano ancora delle belle giornate per utilizzare gli scooter. È dire che gli operatori del gestore idrico si vedono spesso in zona senza un'apposita segnalazione da parte dei privati però gli addetti a quanto pare non sono tenuti ad intervenire. È per questo che esser pur recependo le segnalazioni inoltrateci da più di un residente della contrade Sabella attraverso i video che vi abbiamo mostrato invitiamo al contempo i cittadini a comunicare direttamente alla società del servizio idrico integrato le perdite idriche. In generale comunque tra l'acqua copiosa che si disperde le radici degli alberi che sollevano il manto stradale, le buche e le transenne percorrere la via Aldomoro è un'autentica impresa. Andando verso il centro storico giungiamo in zona Sant'Agostino lungo la via Piave che costeggia la chiesa del quartiere sono diversi gli avvallamenti presenti sulla carreggiata. Ci riferiscono che un passante sia persino caduto al suolo a causa di una buca. Cittadino che pur non avendo riportato conseguenze si è rivolto alla nostra redazione per segnalare il fatto e far sì che gli antipreposti intervengano prima che qualcuno si faccia realmente male. Anche residenti della vicina via San Girolamo hanno contattato la nostra redazione per segnalare le pessime condizioni della strada per nulla decorose un'arteria in più punti ormai priva di asfalto. Un susseguirsi di buche mettono a dura prova le sospensioni delle automobili che vi transitano. Un problema noto da tempo per cui sarebbe il caso di intervenire per evitare ulteriori disagi a chi percorre la strada in macchina o a piedi. La via San Girolamo si trova alle spalle dell'Istituto Sant'Agostino, una zona quindi altamente frequentata tra chi accompagna i bambini a scuola, gli operatori scolastici e naturalmente chi abita nelle vicinanze.